Il presidente Acquaroli visita la provincia pesarese flagellata dal maltempo. Squadre di volontari al lavoro per il ritorno alla normalità. Devastato il campo sportivo di Vismara parte una raccolta fondi. Il rispetto dell'ambiente al centro della seconda edizione di Ecofest. VL dà applausi con Milano domani gara 4 dei playoff. Il presidente Acquaroli visita la provincia pesare il campo sportivo di Vismara. Ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è venerdì 19 maggio. Apriamo questa edizione parlando degli strascichi dei danni del maltempo nel nostro territorio pesarese. Una provincia che oggi è stata visitata nei suoi luoghi più martoriati dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. che proprio ieri ha firmato la richiesta dello stato d'emergenza. E allora vediamo tutto in questo primo servizio. All'indomani della richiesta ufficiale dello stato di emergenza da parte della regione Marche, che ha inoltrato la richiesta al governo centrale ai vertici nazionali della protezione civile, oggi il presidente della regione Francesco Acquaroli ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle pesarese per toccare con mano lo stato dei danni su questo territorio. Da Gabicemare a Montegrimano Terme, da Sasso Corvaro fino alla città di Pesaro. Questa è la situazione che ha trovato il governatore. Diciamo che va ripristinata la viabilità e vanno riconsegnate alla sicurezza i luoghi che sono stati maggiormente colpiti. È una situazione che oggi, in questi giorni, oggi in particolare il tempo è stato più clemente, quindi dobbiamo fare una ricognizione compressiva e trasmettere poi alla protezione civile nazionale, nel Ministero, quello che è il risultato di questa ricognizione e poi sulla base di questi dati bisogna, come abbiamo già fatto, chiedere lo stato di emergenza per mettere in mano la sommorgenza e, come dicevo poc'anzi, al ripristino dei luoghi, delle infrastrutture, della viabilità e di quelle criticità che si sono evidenziate. È certo che quando noi siamo davanti a situazioni come quella che si è verificata nel scorso settembre nel Catria, dove in pochissimi minuti, in poche ore, sono caduti i millimetri d'acqua che normalmente cadono in sei mesi, sono degli eventi rari, straordinari e eccezionali e quando invece vediamo delle situazioni che davanti a una bioggia che può sembrare normale ci sono delle criticità, evidentemente significa che a Monte non c'è una gestione che è stata sufficientemente in grado di garantire la sicurezza. Devo dire che nella nostra regione hanno tenuto i fiumi, è andato in crisi il reticolo inferiore, cioè quindi i fossi e tutti quei corsi d'acqua che sono più piccoli, però i fiumi hanno tenuto bene nonostante hanno avuto in diverse fasi dei momenti di criticità e anche di allerta rossa. Dall'altra parte c'è stato anche evidenziato un tema che è quello degli smottamenti e delle frane che in un territorio come quello marchigiano, che è oggetto bellissimo dal punto di vista passeggistico ma che si proprio caratterizza per la presenza di colline che degradano dalla montagna al mare in valli strette ecco questo tipo di territorio è un territorio per vocazione fragile e questi smottamenti, queste frane hanno creato problemi alla viabilità e stanno creando problemi nella viabilità secondaria del nostro entroterra nel pesarese e nel fermano. Su questo bisogna fare un'analisi attenta di quelle che sono le criticità e vanno affrontate. Fra la delegazione che ha accompagnato oggi a Quaroli in questa serie di sopralluoghi c'era anche l'assessore comunale Enzo Belloni che in questa intervista ci evidenzia quali sono le situazioni attualmente più delicate per il rientro alla normalità nella città di Pesaro. Abbiamo ancora tante squadre in giro sia dalla protezione civile che soprattutto del centro operativo comunale che ha fatto un gran lavoro oltre a Marche Multiservizi e il gruppo di cittadini volontari che hanno dato la loro disponibilità a collaborare anche questa mattina ci sono due squadre in azione una in via Panicali e una a Cattabrighe. Il lavoro è tanto, lo vedete qua al parcheggio del San Decenze dove stiamo aspettando ora una ditta esterna perché dappertutto con i mezzi del comune non riusciamo ad arrivare quindi adesso inizieremo per qualche giorno ad utilizzare anche ditte esterne per riuscire ad intervenire e limitare al massimo i disagi. In questa zona qua è previsto il mercato per domenica quindi vorremmo renderla prima possibile agibile. l'abbiamo provato con diversi mezzi, non ultimo anche con i vigili del fuoco ma prima di tutto dobbiamo rimuovere tutta la terra che si è accumulata in questo spazio. Alcune strade sono ancora chiuse sulla strada panoramica e nella zona via Vincolungo e strada dei Cannetti e sulla zona di via dei Molini e verso Villabetti. Direi che gli interventi fatti con i mezzi del centro operativo sono circa 70 interventi per rimozione di frane che magari non tutti riescono a vederlo, ad avere la consapevolezza, però i danni sono stati parecchi. Pensate solamente qui nella zona di San Decenzio ci sono state 70 macchine sotto il parcheggio. Abbiamo un gruppo di volontari in via Panicali e sono andato a vedere prima, non so quante cose hanno raccolto dalle cantine. Stessa cosa succede a Vismara-Cattabrighe dove ci sono famiglie con le cantine e le parti basse allagate. Il campo di calcio di Vismara che ha avuto danni pesantissimi e la zona della Benelli, quindi a ridosso dell'autostrada dove c'è la Kartfer. La Kartfer è stata chiusa per un paio di giorni, quindi anche la raccolta differenziata di carte plastica ha subito un rallentamento e Marche Multiservizi si sta rimettendo a regime proprio adesso. Abbiamo avuto complessivamente 12 persone sfollate, sistemate con l'emergenza freddo dal Comune di Pesaro, altre che hanno trovato invece alloggio da amici e parenti. Cosa dire, abbiamo attivato un numero per la segnalazione dei danni e questa mattina sono arrivate 61 richieste, quantificata attorno, stimata attorno ai 600 mila euro già. Più dopo ci saranno quelle che il Comune dovrà mettere nella conta dei danni. Tra i luoghi più flagellati dal maltempo a Pesaro c'è senz'altro il campo sportivo di Vismara che è stato devastato ad appena tre anni dalla sua realizzazione. A tre giorni dalla grave ondata di maltempo che ha messo davvero sott'acqua la città di Pesaro, il territorio provinciale, si sta facendo la conta dei danni sul territorio. Danni pubblici, danni privati. Danni che in qualche modo si mescolano fra pubblico e privato qui al campo sportivo comunale di Vismara. Campo completamente devastato dall'allagamento avvenuto martedì, un campo che ha una valenza sia sportiva ma anche sociale come centro aggregativo di questa zona della città. Il fosso qui dietro della Ranocchia è esondato e ha portato danni ingenti a tutta la struttura. Un campo che era stato recentemente ristrutturato, fatto in sintetico. Era un campo di nuova generazione, un campo che ospitava praticamente un'attività settimanale di 200 ragazzi del settore giovanile più una prima squadra che quest'anno ha anche vinto il campionato di promozione. Ad oggi ci troviamo a fare i conti con questa dura realtà. La dura realtà è il fatto che non possiamo proseguire l'attività sportiva, non possiamo proseguire quella che è l'attività sociale perché qui oltre al Vismara Calcio c'è l'associazione Out che fa calcio sociale, c'è il Vismarotto, c'è una terza categoria e si allenava qui anche la Beretti della Vispesoro. Il campo come potete vedere è veramente devastato e questo per noi è una problematica, la problematica fondamentale. Quindi in questo momento stiamo aspettando il sopralluogo domani mattina dell'azienda che ha fatto questo campo per capire insieme al comune quale sono state le entità dei danni e capire come affrontare questa realtà. perché ad oggi abbiamo il dovere di ridare una casa sportiva a 200 ragazzi oltre a tutte le attività che c'erano intorno a questa società. In attesa della stima precisa dei danni, qui a Vismara al danno si aggiunge la beffa ovvero la beffa di un campo rifatto da zero appena nel 2019, appena tre anni fa, di cui uno abbondante trascorso con l'inattività da Covid, un intervento da 800 mila euro e alla prima occhiata sommare il campo è praticamente da rifare da zero. Servono aiuti, servono sostegni e si pensa anche ad una raccolta fondi. Attiveremo una raccolta fondi perché comunque tutte le famiglie stanno venendo a bussare alla nostra porta sì per aiutarci ma anche per chiederci dove andremo, come andrà avanti questa attività. I nostri ragazzi, i nostri bambini ci chiedono di capire e noi purtroppo non abbiamo delle risposte. Quindi stiamo cercando di raccogliere i fondi innanzitutto per ristrutturare la struttura ma soprattutto per affiancarci al comune in quest'opera di ristrutturazione. Voglio ringraziare pubblicamente anche le autorità comunali che sin dal primo giorno, dalle prime ore si sono fatte sentire, sono venute qui con dei sopralluoghi e comunque ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Questo per noi è importante, però da domani capiremo qual è l'entità dei danni e da lì sapremo anche dare delle risposte e capire come muoverci. Sono giornate di super lavoro anche per gli stabilimenti balneari della città di Pesaro che da martedì sono alle prese con una faticosa pulizia degli arenili, colmi di detriti, legname e rifiuti. In spiagge tra l'altro sempre più erose dalle mareggiate. Le immagini che vi mostriamo vengono dalla foce del Genica dove l'esondazione del torrente ha trasportato tonnellate di detriti che gli operatori balneari della zona stanno faticosamente rimuovendo per tentare di inaugurare la stagione nel primo weekend di giugno. I fenomeni climatici ed il rispetto per l'ambiente saranno i temi centrali della seconda edizione di Ecofest. Il festival che unisce natura, benessere e sostenibilità si terrà dal 2 al 5 giugno nella suggestiva cornice della fondazione Oasi che si trova proprio all'interno del Parco San Bartolo. Immergersi nel verde del San Bartolo per elevare rispetto per la vita sulla terra. Il punto 15 dell'agenda ONU 2030 diventa il tema della seconda edizione di Ecofest. La rassegna che lega natura, rispetto per l'ambiente, benessere e sostenibilità nella splendida cornice della fondazione Oasi di Claudio Balestri. Una cassa di risonanza tematiche ambientali quanto mai attuali di fronte all'imprevedibilità climatica che sta lasciando i segni sul nostro territorio. Il tema è rispetto per la vita sulla terra perché dobbiamo avere il rispetto in tutte le forme possibili, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per tutto ciò che ci circonda, per gli animali ma il rispetto anche per la nostra salute perché comunque anche noi siamo parte di questa terra. Cerchiamo di essere un po' a 360 gradi un luogo, un contenitore di dare dei suggerimenti, di dare sempre quegli spunti utili ad avere questo rispetto. Il modo di incontrarsi, di incontrarsi anche tra creativi, artisti, bambini, laboratori e vivere la natura del San Bartolo che sappiamo bella, delicata e che va rispettata e fragile come abbiamo scoperto e riscoperto anche in questi giorni ma anche un modo per vivere la sostenibilità come forma d'arte, come forma di espressione. Quindi una tre giorni veramente significativa, ripeto in un weekend che sarà anche un weekend di rilancio del turismo provato anche dalle difficoltà di questi giorni è il miglior messaggio che può nascere dal cuore di un parco naturale, appunto quello di ripartire sulla creatività per quello che è anche lo spunto 2024 della natura e della cultura. Un evento che valorizza pieno l'unione fra natura, cultura e sport che per il presidente del San Bartolo, Silvano Leva, è frutto di un proficuo lavoro di squadra. Stiamo cercando di mettere in piedi attività culturali e per esegistiche per il parco per quelli che amano il parco, non quelli che lasciano le cartace in giro non quelli che sparlano, non per quelli che fanno sciacallaggio quando non serve. Dal 2 al 5 giugno, quattro giornate in cui respirare il rispetto per la terra a 360 gradi. È un programma veramente molto molto ricco che parte da tutta una serie di attività per il benessere della persona, quindi da yoga, meditazioni poi ci sono delle attività per i bambini, dei laboratori creativi dove i bambini possono giocare con delle cose che prendono dal territorio, con i colori poi ci sono delle attività per il benessere fisico, quindi nord walking, trekking ci sono approfondimenti sulle erbe, il riconoscimento delle erbe che è un altro tema veramente molto 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 importante per il territorio ci sono dei seminari che riguardano come vivere bene che è un altro tema molto importante che sta al cuore, alla fondazione è un terzo tema che forse non solo si aspetta è come colore influenza la nostra salute e il nostro benessere il colore visto dal punto di vista del Feng Shui che è l'armonia dell'uomo nel contesto della natura ma anche il colore delle erbe, il colore dei fiori perché anche questo colore qui influenza tantissimo la salute dalla fondazione c'è un tramonto meraviglioso verso tutta la riviera adriatica e le tre giornate delle attività fisiche sulla fondazione, sul logo della fondazione ci sono la prima serata venerdì 2 giugno c'è un concerto dell'orchestra di Rossini di Pesaro quattro stagioni di Vivaldi il sabato invece c'è un programma con Roberto Mercantini che fa dei monologhi veramente meravigliosi e Jacopo Fo che anche lui farà tutto un suo monologo sul territorio sul tema della salute e della sostenibilità il tutto il programma si conclude con lunedì 5 giugno che è la giornata mondiale dell'ambiente dove si terrà una tavola rotonda per parlare del tema una pianta per l'ossigeno Alla luce dei numerosi disagi provocati dal maltempo Marche Multiservizi ha attivato un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti ingombranti per venire incontro alle necessità dei cittadini che devono liberarsi di scatoloni, mobili e altri oggetti resi inutilizzabili dall'allagamento di case, garage e scantinati chiamando il numero verde 800 600 999 verrà fissato un appuntamento per il ritiro con carattere di priorità per i rifiuti del post nubifragio è stata inaugurata all'istituto comprensivo Olivieri l'aula WWF un'aula che punta a insegnare a grandi e piccini i valori di sostenibilità e rispetto per l'ambiente contando su un orto, una casetta per gli inserti uno stagno e panche e tavoli in cui fare lezione en plein air un progetto sostenuto da Procter & Gamble che punta entro il 2024 a realizzare almeno 50 aule natura in tutta Italia quella di Pesaro è la trentesima inaugurata Pesaro, capitale della cultura 2024 è stata presentata anche all'Arabian Travel Market di Dubai a fare da ambasciatore del territorio è stato Marco Cadeddu, vicepresidente del consorzio Discover Pesaro l'occasione è stata il principale evento del Medio Oriente dedicato ai professionisti del turismo internazionale che ha visto presenti fra gli altri rappresentanti dell'Enit e dell'Ambasciata italiana a Vallefoglia durante l'ultima seduta di giunta comunale è stato approvato il progetto di fattibilità per il completamento del restauro delle mura castellane di Colbordolo un intervento di rigenerazione urbana finanziato dal Ministero dell'Interno con fondi del PNRR per un importo complessivo di 900 mila euro Domani, sabato 20 maggio a partire dalle 10 nell'auditorium dell'Università dell'Eta Libera gli studenti della Quinta Superiore dell'Istituto Benelli incontreranno Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 e Giovanni Ricci figlio di uno degli agenti della scorta di Moro l'incontro rappresenta la conclusione del progetto di legalità ed educazione dal titolo Le parole giuste le nostre telecamere saranno presenti all'evento e vi mostreremo appunto il resoconto di questo importante evento sul Rossini News della prossima settimana dagli studenti delle scuole superiori agli studenti delle scuole primarie quelli della scuola Mascarucci coinvolti nel progetto Senza Zaino Oggi è il Senza Zaino Day una giornata dedicata alla democrazia alla non violenza e alla pace è una giornata dedicata a questi temi i bambini saranno impegnati in attività a classi aperte abbiamo il laboratorio di teatro in cui possono mimare rappresentare le parole come pace, amore, amicizia e abbiamo un laboratorio di disegno dove insieme i bambini di tutte le classi produrranno un manifesto sulla pace poi c'è anche il cineforum quindi assisteranno a due cortometraggi su questi temi e abbiamo anche le olimpiadi della democrazia abbiamo una ragazza del CONI che per amicizia nei nostri confronti verrà e organizzerà per i ragazzi la staffetta della pace il gioco della gioia con la palla e oggi pomeriggio ospiteremo un ragazzo del Gambia Giabelle che è un cantastorie e un ragazzo che è arrivato anni fa con i barconi adesso è un artista e musicista anche affermato riuniremo tutti i bambini della scuola in un grande agora e Giabelle ci racconterà il suo viaggio quello che mi preme insomma sottolineare che in questa scuola questi esercizi di democrazia si fanno quotidianamente perché all'interno di ogni classe esiste un sistema delle responsabilità quindi i bambini hanno degli incarichi quotidiani abbiamo un consiglio dei ragazzi che si riunisce per parlare anche con il dirigente delle loro esigenze e di quello insomma di come vorrebbero la scuola e diciamo che questo discorso della non violenza e della pace rientra nel nostro curriculum quotidiano noi cerchiamo sempre di abituarli a spostare lo sguardo sempre al di là del proprio vissuto e a farsi degli interrogativi e a trovare delle risposte su argomenti di grande attualità quindi cerchiamo di tenere sempre la scuola in contatto col territorio e con il mondo noi facciamo parte di una rete nazionale che è il movimento senza zaino abbiamo aderito a questo movimento perché? Perché la Mascarucci comunque è sempre stata una scuola innovativa la grande rivoluzione di questo movimento di questo modo di fare scuola è anche riorganizzare gli spazi scolastici oltre che a eliminare proprio lo zaino fisicamente e ci siamo organizzati come in molte scuole europee per cui non ci sono più i banchi monoposto abbiamo delle isole dei tavoli quadrati attorno a cui ci stanno 4 o 6 bambini i bambini non hanno un astuccio personale ma condividono un materiale uguale per tutti e hanno dei box in cui riporre i loro materiali e quindi portano a casa solo lo stretto necessario e soprattutto le aule sono attrezzate a laboratorio quindi abbiamo dei laboratori in cui trovano materiali didattici di matematica italiano, scienze, arte usiamo molti strumenti didattici costruiti da noi insegnanti a disposizione dei bambini al di là del libro si usa il libro ma si va anche al di là dell'uso del libro e del quaderno abbiamo anche la Gora la Gora è un momento di condivisione abbiamo mutuato dall'antica Grecia questo momento quotidiano in cui ci si riunisce in cerchio e è l'occasione per esprimere il proprio parere imparare ad ascoltare gli altri e chiudiamo questa nostra edizione con due notizie di sport la prima riguarda la VL siamo all'indomani infatti della splendida vittoria della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ieri alla Vitre Frigo Arena ha mandato in visibilio il pubblico pesarese battendo Milano e allungando la serie dei quarti di finale serie che continuerà domani sera a Pesaro con un'intrigante gara 4 vediamo credetenei miracoli si domandava il noto telecronista Federico Buff al termine di una partita NBA nel lontano 2004 quando McGrady siglò 13 punti in 35 secondi una di quelle partite passate alla storia come quella vissuta ieri sera all'interno della Vitre Frigo Arena un impeccabile VL batte Milano al termine di un match equilibrato rinviando il discorso ad una gara 4 insperata da molti alla vigilia di questi playoff 88-83 il punteggio illuminato sul maxischermo allo scadere dei 40 minuti che ha fatto esplodere di gioia ed entusiasmo i 6.100 spettatori accorsi all'arena con tanto di invasione finale di campo dopo le due sconfitte subite al Mediolanum Forum i ragazzi di Repegia sin dalla palla 2 sono partiti con l'atteggiamento giusto nonostante Milano provasse ad allungare con la forza di Melli l'esperienza di Schiltz la Carpegna Prosciutto è rimasta sempre compatta restando incollata agli uomini di Messina all'intervallo ospiti avanti 42-36 nella ripresa la storia è la stessa vuole che per questi playoff si affida ancora una volta Totè che non tradisce continuando a dominare sotto canestro per lui 16 punti alla fine del match i 13 di Tambone i 9 di Delfino i rimbalzi di Dei e i 10 punti di Rachman arrivati tutti a pochi minuti dalla sirena finale hanno regalato a Pesaro la possibilità di giocarsi gara 4 di nuovo davanti ai propri tifosi di fondamentale spinta e calore per una quanto mai inattesa gara 5 la Vitrifrigo Arena è pronta a ritingersi di bianco rosso sabato 20 maggio alle ore 20 e 30 i biglietti sono già acquistabili su Viva Ticket da questa mattina a ore 11 e continuiamo a parlare di sport all'indomani del clamoroso esonero dell'allenatore Fulvio Colini l'Ital Service Pesaro è arrivata oggi in Sardegna dove domani alle ore 16 affronterà il Monastir a Sestu in provincia di Cagliari si tratta della prima di due gare play out da dentro o fuori mister Davide Barnesi al quale è stata ora affidata la squadra cercherà di far valere i due mini vantaggi costruiti dalla classifica finale di regular season quelli che consentirebbero all'Ital Service di salvarsi anche in parità di gol nel doppio confronto in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato rispetto ai rivali sardi la gara di ritorno si giocherà a Pesaro il 27 maggio Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale però restate collegati su Rossini TV perché subito dopo con l'altra replica del telegiornale come sapete il telegiornale Rossini News va in onda alle 19.40 e poi replicato anche alle 20.40 ecco, quindi subito dopo questa seconda replica alle 21.20 circa vedrete uno speciale approfondimento sul Biolab e questa sera si parlerà del colesterolo Mentre domani torna la nostra rassegna stampa il nostro spazio quotidiano da lunedì al sabato sarà in diretta con voi alle 7.20 Antonio Astuti D'ora vediamo come sarà il meteo per questi prossimi giorni intanto io vi auguro buona serata e mi raccomando tenete sempre a mente il nostro numero per le segnalazioni 370 366 72 10 utilizzando questo numero con l'applicazione di WhatsApp potrete mandarci foto, video oppure anche messaggi di testo per segnalarci le disfunzioni che avete nel vostro territorio grazie mille grazie a tutti